Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video del Gobo Toscano. Oggi ci sono continue, continue polemiche sulle parole di commisso. Perché a dire il vero le parole di commisso servono semplicemente, sì, lì per lì per fare un commento a caldo di commisso sulla situazione soprattutto debitoria di Inter e Milan, ma poi ovviamente non potevamo che aspettarci un ritorno di fiamma. Un ritorno di fiamma ovvero un'espansione a macchia d'olio, perché quando ne parlano influencer, youtuber e quant'altro, è un conto, quando ne parla il patron di una squadra come la Fiorentina, è tutta un'altra musica. E quindi si sono susseguiti commenti anche di altri personaggi importanti nel mondo del calcio. E oggi vi vado a leggere un trafiletto trovato sul web questa mattina, che è secondo me molto molto importante. Allora andiamo subito a leggere, prima però ragazzi miei vi chiedo uno sforzo, che poi non è uno sforzo, è semplicemente un sostegno. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel mi piace, commentate il video dicendomi il vostro pensiero, condividetelo con i vostri amici juventini o anche interisti o milanisti, e attivate soprattutto la campanella delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi contenuti, mi raccomando. Innanzitutto spero stiate tutti bene, perché ormai va di moda così e quindi ve lo dico anch'io. Spero stiate tutti bene, perché è meglio stare bene. Bene, detto questo andiamo a leggere, Inter in quarta serie, virgolettato, caos debiti, sta succedendo di tutto. Attenzione, andiamo subito a vedere perché ci vogliamo vedere chiaro. La presa di posizione non è passata inosservata ed ha contribuito ad alimentare il caos, ecco cosa sta succedendo. Chiusa una sessione estiva di calciomercato, chi ha visto le big italiane, volente o non lente, ricoprire un ruolo tutt'altro che banale, il campionato di Serie A proseguirà con la quarta giornata dopo la sosta delle nazionali. A tener banco però sono ancora le voci riguardanti la situazione economica di alcuni dei top club italiani. Dopo le parole di commisso, che ha deprecato la situazione che ha portato agli ultimi recenti successi di Milano e Inter, è arrivata anche la bordata di Eraldo Pecci, ex centrovampista di Torino, Fiorentina e Bologna. In occasione del premio nazionale Romano Fogli Classe Lealtà Mondiali, Pecci ha toccato diversi argomenti, non lesinando una bordata alla particolare situazione debitoria evidenziata dall'Inter nel corso di questi mesi. Al centro dell'attenzione mediatica, Pecci si è espresso in questi termini. L'Inter dovrebbe giocare in quarta serie per i debiti che ha. Parole grosse, parole pesanti. Oltre a questa puntualizzazione, Pecci ha espresso il suo punto di vista anche sui nuovi progetti di Fiorentina e Torino. Dice che quando è arrivato l'italiano sembrava che avesse una carica che dovesse esplodere in qualche maniera, poi malgrado abbia giocato nel finale l'ha un po' persa. Mi sembra un po' sgonfia, vediamo se riesce a rigonfiarsi e a fare il pieno. Sul centro campo mi esprimerò tra qualche giornata. Ma quello che è importante sottolineare è che le parole di commisso hanno dato il via, fortunatamente, a una cosa che fino a che ne parlava solo la sponda tifoseria Juventus non aveva senso. Oggi ne parla un proprietario di un club, un commisso, che dice ragazzi non è possibile con tutti questi debiti continuare a partecipare, a fare mercato, a vincere anche. E rincara la dose Eraldo. Ragazzi, c'è poco da fare. C'è veramente poco da fare perché Eraldo Pecci qui non la manda a dire, no? L'Inter dovrebbe giocare in quarta serie per i debiti che ha. Ecco che allora arriviamo a un punto in cui, sì, l'Inter ha già risposto a Commisso, ha risposto a Antonello, ha risposto a Marotta, ma qui ci vorrebbe una risposta anche da parte delle autorità competenti perché comunque è una situazione che si sta espandendo a macchia d'olio e in questo modo rischi di creare un precedente. Perché se poi tutte le altre squadre di Serie A cominciano a fare debiti, come ha fatto l'Inter negli ultimi anni, diventa difficilissimo rimettere in piedi una Serie A che già sta con le pezze al culo. Scusate il termine. Ma è così. Cioè, siamo in una Serie A in fase calante, calante di brutto dal punto di vista degli spettatori, dal vivo degli spettatori in pay per view. Ragazzi, la Serie A sta subendo dei contraccolpi importanti. In più, se non si dà una risposta su queste situazioni ambigue, è ovvio che non si può andare certo a migliorare. Si può andare solo che a peggiorare. Ecco, su questo vorrei sentire anche la vostra. Ma, ripeto, voglio il vostro parere dai Juventini, ma voglio anche ogni tanto il parere di qualche altro tifoso, ma non che diventi aggressivo e di «Ah, tu hai detto questo, allora ti meriti che la curva dell'Inter venga sotto». Ragazzi, sti discorsi da bambinini, che si manda quello, quell'altro fa la minaccia. Io, veramente, ne ho viste di ogni in questi giorni sul web. Ne ho viste di ogni. E io, in questo momento, mi sto rapportando soltanto a quello che si legge, alle dichiarazioni fatte da presidenti, ex calciatori e quant'altro. Io vorrei, però, quindi non sto attaccando nessuno fondamentalmente, ma vorrei che metta fine a tutte queste chiacchiere con qualcosa di concreto la Lega Serie A, la Federazione FGC, addirittura il governo italiano, perché qui si parla di una situazione che sta mettendo alla luce un argomento che veniva riportato soltanto nei giornali oltreoceano gli anni passati e che oggi, finalmente, qualcuno in Italia trova il coraggio di denunciare. Denunciare, tra virgolette, perché non è una vera e propria denuncia, ma tanti si esprimono in questo senso. E, ovviamente, ragazzi, lasciamo fare Raldo Pecci, ma commisso, ha detto le osi a come stanno. Con la Juventus è stata, diciamo, un po' una perculata, no? Dice, ci comprano Vlaovic e Chiesa, poi Vlaovic piglia 12 milioni alla Juve e non sanno come sistemarlo e Chiesa andava via per 12 milioni e è arrivato alla Juve a 60. E lì è una perculata. E ci sta anche ragione. Chi ci ha guadagnato? Commisso la Juve? Commisso. Stop. Ha fatto delle cessioni importanti. Commisso. Ora, spero il congiunto non risuccedano, ma vedendo l'affare Nico Gonzalez credo sempre di più che ci sia qualcosa che colleghi la Juventus e la Fiorentina per cui bisogna fare determinati acquisti. Questa è una cosa mia. Ma, ragazzi, non si può continuare a raccontare che va tutto bene, no? Come ci hanno sempre detto, in ogni momento di crisi, sia nel calcio che nella nostra società, andrà tutto bene. Hashtag andrà tutto bene, no? Quell'hashtag andrà tutto bene che mi spaventa a me. Perché se non si fa qualcosa, se non c'è chiarezza, non andrà mai nulla tutto bene. Andrà sempre tutto peggio. Hashtag tutto peggio, semmai. Andrà tutto peggio. Sarà sempre peggio. Andrà tutto male. Sarà uno schifio. Ecco l'hashtag che va messo. Quindi, io vi chiedo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione. Fatemi sapere se Commisso ha detto le cose giuste o meno, ma vedendo che non è stato fatto nulla a livello anche legale, no? Da parte dell'Inter verso Commisso. Commisso ha detto una cosa gravissima. Ha detto queste squadre partecipano e vincono quando non potrebbero neanche iscriversi. Non è che ora io pendo dalle parole di Commisso, ma ripeto, se l'ha detto se lo dice il Gobbo Toscano è un conto. Tra l'altro potrebbe essere quel relato anche il Gobbo Toscano o allora dicesse una roba di genere o uno youtuber qualsiasi. Ma lo dice Commisso e non gli viene fatto nulla. Eh, se l'Inter un fa nulla vuol dire che qualcosa di sudice o dietro dietro c'è. Ecco, soprattutto voglio che mi rispondiate a questo quesito. Quindi, like, iscrizione se ancora non l'avete fatto, condivisione, commento e attivazione della campanella. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Abbiamo ospiti oggi, abbiamo ospiti in video, in live, abbiamo tutto oggi, abbiamo tutto fino alla fine Forza Juve e fino alla fine Gobbo Toscano. Mi ero impappinato. Ci vediamo con un prossimo video perché il Gobbo Toscano siete tutti voi. Ciao belli, mi raccomando la live è già impostata. Andate a cliccarla. Ciao.